Buongiorno Sbacher In cosa posso servirla, bella signora araba? Tre cozza Signore basta, deve essere gentile, mica divertirti In cosa posso servirla, signora e basta? Tre cobs Subito, signora Signora, giusto No pane turco Turchia un pane mica del Marocco No pane turco Pane cozza Pane cozza Pane con le cozza Con semi di sesamo Con semi di sesamo Guardi, abbiamo semi di girasole Semi di mais, semi di zucca Con semi di sesamo Semi di sesamo Eccolo qua, con semi di sesamo Libico? Libico si, cento per cento No, Libia è nemica del Marocco Troppo libico No pane turco Pane turco Turchia poco nemica del Marocco Pane turco Senza glutine Senza glutine Glutine è nemico di pancia Signora, senza glutine se abbiamo un semplicissimo ma vattene a fanculo Gliele faccio mezzo chilo, va bene? Ando, ma sono il mio signore Facciamo un chilo? Non c'è più religione Dal 7 dicembre al cinema Grazie a tutti